Oroscopo Paolo Fox e Branco di oggi, 18 febbraio 2023, le previsioni imperdibili, ariete. Passerai dal piano di idee al piano d'azione e svilupperai progetti con compagni di studio, fratelli o parenti stretti. Prenderai iniziative nella comunicazione per trasmettere le tue idee su larga scala. Vi sembrerà di fare passeggiate, escursioni e brevi gite. Qualcuno della tua cerchia più ristretta sta tarpando le ali della tua libertà, e ti chiedi fin dove potrà arrivare. Ti senti in agitazione. Proprio come prima di un temporale. Non cercare di comprendere da solo tutte le circostanze. Chiedi un parere alle persone che occupano una certa posizione e che hanno una visione più distaccata di te. Toro, la Luna e Marte ti spingeranno ad avviare piccole imprese e a guadagnarti da vivere in modo indipendente. Avrai una visione accurata dell'economia che ti permetterà di superare la concorrenza e diventare un leader e pioniere nel mondo degli affari. Rischia per vincere. A volte è difficile trovare la giusta dose di impegno per portare a termine un compito. Hai la tendenza a metterti da parte, anche laddove l'aggressività è minima, perché il confronto diretto è delicato da gestire. Ma adesso puoi contare sui tuoi amici e colleghi per avere un supporto in questa battaglia che ti preoccupa molto e che si prospetta difficile, ma almeno sai di non essere solo. Gemelli, la Luna si unirà a Marte, la stella dell'azione, nel tuo segno, dandoti una dose extra di indipendenza e dinamismo, ma anche di conflitto con gli altri. L'apprendimento consisterà nel canalizzare positivamente questa grande forza vitale. Evita l'aggressione verbale, giocare secondo delle regole che non ti si addicono andava bene fino ad ora, ma non puoi più continuare così senza metterci del tuo. Sul lavoro si pretenderà di continuare ad usarti senza preoccuparsi troppo di chiederti il tuo parere. Ma devi recuperare la tua autorità, o perlomeno fissare dei limiti invalicabili, cancro. Stai lontano dal rumore dei combattimenti e non perdere tempo con coloro che non ti danno nulla. Lascia che il tuo interesse per le questioni spirituali cresca e liberati da problemi e relazioni che non ti servono più. Ricorda che mettere in pausa non significa essere inattivi. Potrebbe esserci qualcosa che interrompe la tua routine e che ti tiene sulla corda. Ma allo stesso tempo ti trovi in un periodo di eccitazione che ti allontana dalla fatica del lavoro. Il peso delle cose da fare probabilmente ti metterà un po' in difficoltà per stabilire una nuova direzione da cui al momento stai prendendo le distanze. Leone, dovrai essere vigile perché alcuni conflitti, paure e risentimenti potrebbero sorgere nella tua cerchia di amici. Potresti sentirti snobbato e nessuno sa meglio di te come reagisce leone quando viene ferito. Cerca di pensare freddamente ed evitare azioni impulsive. Se recentemente sei stato coinvolto in una faccenda di soldi, oggi potrebbe essere una giornata movimentata, in senso positivo. Anche se le conseguenze non saranno strabilianti come speravi, il risultato potrebbe pur sempre essere meglio di quanto immaginassi. Vergine, ti distinguerai per le tue capacità sul posto di lavoro, riceverai aiuto dai tuoi colleghi e riconoscimenti dai tuoi superiori. Alla fine ne uscirai vittorioso e niente e nessuno potrà ostacolarti, ma controllare la rabbia ed evitare di entrare in polemiche e discussioni pubbliche. Talvolta si dice che il modo migliore di trattare le persone che si amano è di lasciarle libere. Se le metterai in gabbia, vorranno fuggire. Ma se c'è abbastanza fiducia, vorranno godersi la loro libertà e al contempo restare con te. Bilancia, se ci sono energie che ristagnano la tua crescita, fatti strada con fermezza. I cambiamenti arriveranno con facilità e avrai la possibilità di progredire, innovare e avanzare in modi nuovi. C'è anche la possibilità di viaggiare e realizzare iniziative all'estero. I tuoi amici contano molto per te, ma oggi potrebbero essere un po' di intralcio. Hai già abbastanza problemi tuoi e poco tempo da dedicare agli altri. Sarebbe meglio dirlo in modo semplice e rispettoso che oggi non è il momento più adatto per trascorrere del tempo insieme. Anche se ti viene proposto qualcosa di invitante, scorpione, indagherai i misteri nascosti e scoprirai nei pensieri e nelle parole una qualità trasformante. Userai il potere della tua mente per superare i problemi e guarire sia fisicamente che spiritualmente. Nella tua camera da letto ci sarà una rinascita di passione e una maggiore chimica sessuale. Se riesci a utilizzare la tua determinazione per concretizzare le tue idee creative, le cose oggi dovrebbero andare nel verso giusto. Un caro amico oggi si rivelerà molto importante per te. Hai bisogno di circondarti di gente amici o colleghi che può far aumentare la tua autostima e che ti fa sentire bene. Sagittario, le vostre relazioni diventeranno più importanti e creerete nuove unioni, sia romanticamente che commercialmente. Sceglierai di legarti con persone volitive che ti stimoleranno all'azione. La tua vita di coppia sarà più appassionata, ma dovresti evitare discussioni senza senso. Hai il dono innato di andare d'accordo con gli altri e farti degli amici facilmente. Oggi sentirai il tuo fascino agire in modo ancora più naturale. Il tuo atteggiamento sarà peraltro contagioso. Non si tratta solo di piacere, puoi anche sfruttare questa qualità a favore degli altri, ad esempio delle popolazioni bisognose. Capricorno. Lo stress sul lavoro potrebbe influenzare il tuo metabolismo, quindi dovrai fare alcune pause per cambiare aria. Trarrai beneficio dalla bicicletta o dalle escursioni all'aperto, ma evita movimenti improvvisi e sforzi prolungati. Agirai in un modo più determinato e discreto del solito. Le cose ci metteranno del tempo per arrivare e dovrai fare un compromesso sul lungo termine. Per poter raggiungere i tuoi scopi, dovrai escogitare qualcosa. E soprattutto ti servirà del tempo per dimenticare qualcuno che ti ha voltato le spalle nel momento del bisogno. Acquario, con la luna e Marte a tuo favore avrai una quantità extra di energia, sia fisica che mentale. In amore diventerai più audace, darai libero sfogo ai tuoi desideri e andrai alla conquista. Voglio che tu inietti una dose extra di malizia nella tua vita, passerai un bel po' di tempo a districarti dalle circostanze difficili. Non sei alla ricerca della semplicità, visto che sei perfettamente in grado di farcela quando ti vengono date maggiori responsabilità. Semplicemente non avevi bisogno di complicarti la vita in questo momento in cui era già abbastanza complicata di, per sé, pesci. Esplorerai le tue radici e entrerai in contatto con l'energia dei tuoi antenati per ricevere i loro messaggi e la, loro forza. Intraprenderai miglioramenti nella tua casa e ti concentrerai sui tuoi parenti. Ma fai attenzione agli atteggiamenti autoritari perché potrebbero portare a litigi. Forse vorresti poter nascondere l'inevitabile sotto al tappeto, ma non è possibile. Anche se vuoi fare la scelta giusta per delle questioni importanti come il denaro, tendi a scegliere la facilità.